Secondo sciopero globale contro i cambiamenti climatici per le vie della città si è snodato il corteo che ha preso le mosse da Piazzale Pietrosa per giungere a Piazza Plebiscito dove si è tenuta un'assemblea e dove si è recata la collega Marina Moretti che abbiamo in collegamento in diretta. Buon pomeriggio Marina, a te la linea per spiegarci cosa è accaduto a Lanciano. Buon pomeriggio a te Fabio e a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Lanciano, il corteo si è chiuso da poco ma noi abbiamo naturalmente realizzato le immagini che proponiamo e soprattutto abbiamo trattenuto qua un manipolo di ragazzi, abbiamo impedito loro di andare a mangiare perché volevamo sentire proprio dalla loro voce che cosa è successo questa mattina e soprattutto perché prima però di far parlare Alessia in rappresentanza degli altri ragazzi che hanno partecipato a questo venerdì per il futuro versione Lanciano vorrei ascoltare il professor Luciano Biondi del liceo scientifico che ha coordinato anche un po' le attività di questi ragazzi, proprio per la verità hanno fatto un po' tutto da soli, mi pare di capire, però comunque è importante che ci sia un professore perché è importante anche che il pubblico capisca che non è una scusa per non andare a scuola. Sì sì, in realtà i ragazzi hanno fatto praticamente tutto da soli e quindi il merito di questa straordinaria manifestazione è tutto loro, centinaia e centinaia di ragazzi che sono scesi qui in piazza a Lanciano. Io sento profondamente dentro di me la responsabilità di essere non solo un semplice cittadino e un genitore ma anche un insegnante. La scuola deve poter appoggiare e accompagnare i ragazzi in questa loro protesta che è una protesta sacrosanta, è una protesta per il loro futuro, per il futuro dei loro figli e perché tutto sommato siamo stati noi, la nostra generazione negli ultimi 50 anni che ha ridotto il pianeta in questo stato. Ed è quindi necessario che ci mettiamo in gioco tutti quanti per rimediare in parte per quanto sarà possibile ai danni che abbiamo provocato. Alessia, tutto questo è nato da una ragazza di 16 anni, una giovane ragazza svedese Greta Thunberg che ne aveva anche meno per la verità di anni quando ha iniziato e lei è riuscita davanti ai grandi a fare dei discorsi molto toccanti. Una delle sue frasi, mi ricordo, è quando io avrò 75 anni, quando mi chiederanno ma te che hai fatto, i miei figli, per noi, i miei nipoti, per noi, io vorrei saper dire qualcosa, vorrei testimoniare di aver fatto qualcosa. E' un po' questo lo spirito che anima anche voi ragazzi, l'idea di esserci e di fare qualcosa. Sì, quello che ci ha spinto oggi a scendere in piazza è per l'appunto questa volontà di far sentire la nostra voce, di far capire insomma al mondo che noi ci siamo e che contiamo qualcosa e che quello che crediamo e quello a cui pensiamo conta. E non possiamo per l'appunto tacere dinanzi a tutto quello che sta accadendo nel mondo, essendo il mondo nostro, vostro e di tutti fondamentalmente. Il nostro obiettivo è dunque quello di cercare per quanto possibile di cambiare il nostro modo di agire e di pensare, volgendo tutto questo al meglio. Al meglio per noi e in maniera particolare per i nostri figli e per quelli che verranno dopo di noi. E allora Fabio, io vorrei comunque dare appuntamento ai nostri telespettatori, allo speciale che come sempre andrà in onda questa sera e che sarà più esteso rispetto a questo collegamento per cercare anche di saperne di più dai ragazzi. Intanto se non hai domande da studio posso chiudere qui. Sì, grazie Marina, ringrazio te e i tuoi ospiti, ringrazio per questa finestra che abbiamo aperto sul Lanciano per affrontare temi legati ai mutamenti climatici e all'ambiente.